Che oggi, in un mondo in cui tutto è connesso, dalla lavatrice, al televisore, al decoder, allo smartphone, tutto è connesso, non si vogliono spendere 100-200 euro per la scheda di rete che avrò il compito di mettere in rete il vostro sistema di sicurezza, lo trovo una grande assurdità. Se ci pensate, mettere in rete il vostro impianto d'allarme non rappresenta soltanto una figaggine. In primo luogo, avrete il vantaggio che il vostro installatore potrà connettersi in teleassistenza, e di questo abbiamo già parlato, per magari farvi un cambio di una configurazione e magari ve lo farà anche gratis, cosa che se invece deve farci 40-50 km potrebbe benissimo chiedervi un tot per l'uscita, e siccome è un cambio di idea vostro e non un guasto, signori dovreste dargli quei soldi. Quindi, già, garantirvi questo servizio, spesso se volete il gratuito, è tanta roba. Ma poi ci pensate alle possibili integrazioni future del vostro impianto d'allarme? La domotica, lo so, per adesso per molti di voi è qualcosa di astruso, qualcosa di... Oh, domotica! Io stesso non posso vantare grandi esperienze nel settore, ve lo posso assicurare, però si intuisce da alcune cose, da alcune aziende che sono arrivate sul mercato e hanno cominciato anche a fare pubblicità per l'utente fidale, si intuisce che qualcosa sta cambiando. Si capisce che in un mondo in cui il mercato vive di esigenze prima create e poi soddisfatte dal cliente finale, la domotica sarà il nuovo carburante per le aziende che fanno produzione tecnologica. Il nostro allarme connesso, i nostri oggetti connessi e saranno capaci di parlarsi tra di loro, saranno capaci di integrarsi. Ovviamente non tutti, ci sono aziende che sono già più avanti, aziende che non lo sono, questo è un altro discorso. Ma connettere vuol dire poter mettere in comunicazione un oggetto con un altro. La domotica, l'integrazione, la casa intelligente è il futuro e di sicuro non possiamo da due, tre, quattro anni pensare di buttare via tutto per rifare tutto allineato con un nuovo impianto. Dobbiamo mano a mano che spendiamo i nostri soldini in qualcosa per la nostra casa, pensarla sempre, non oggi, ma pensarla tra tre anni, cinque anni, dieci anni. Perché un sistema di sicurezza fatto bene questa aspettativa di vita deve avere. Non stiamo parlando delle centraline, quelle che avete comprato su ebay per 26, 27 euro. Stiamo parlando di un sistema di sicurezza realizzato da un professionista che deve avere una lunga aspettativa di vita e una lunga sostenibilità del tempo. Connettiamo i nostri impianti a internet, compriamo la scheda di rete, mettiamola in rete. Gli strumenti in più che avremo a nostra disposizione valgono largamente la piccola spesa rappresentata da una scheda di rete. Ciao!